Buongiorno e bentrovati con questa edizione di mattino 6 di questo martedì 4 aprile 2017 pronti a vedere i quotidiani locali e anche le prime pagine delle testate nazionali chiaramente in primo piano purtroppo quanto accaduto in Russia con la strage di San Pietroburgo sarà questa insomma la notizia maggiormente in evidenza sulle testate nazionali noi però iniziamo con le quattro edizioni del centro con la prima pagina anche del messaggero Abruzzo e con la città per dare spazio ai primi titoli e allora qui siamo sull'edizione aquilana del centro anche se vi dico subito che il titolo d'apertura sarà il medesimo lividi sul corpo dell'impiccato il professore di chieti morto ai caraibi la famiglia non crede al suicidio e poi la foto notizia proprio dedicata anche sul centro alla strage di San Pietroburgo attentato nella metro 11 morti e poi tornando a infatti insomma legati alla nostra regione di Spallo all'Aquila appalti cialente prosciolto di orio assolto per gli affitti ovindoli film illegali proiettati negli alberghi all'Aquila trifoggi così ho salvato la ricostruzione in basso nell'inserto lavoro i 16 anni nel concorso carabinieri bando per 1598 allievi aperto per la prima volta ai giovanissimi e poi tornando sotto la testata Abruzzo nei circoli PD vince Renzi ma Orlando vola all'Aquila città e a Francavilla prevale Emiliano tragedia a Caltagirone uccide la compagna nel sonno poi si consegna è stato un raptus ora la prima pagina di chieti subito di spalla leggiamo Fossa Cesia tentò di uccidere i carabinieri profugo condannato a sette anni e poi a chieti caos dei rifiuti esposto al prefetto a San Salvo donna quarantenne sparita da tre giorni e poi in basso abbiamo già visto i 16 anni nel concorso carabinieri siamo nell'edizione terramana subito i richiami di cronaca di spalla danni per le aziende export terramano a rischio con i dazi minacciati da Trump roseto raccolta viveri la Caritas aiuta 200 famiglie poi terramo multe nel ZTL niente rimborsi dopo due anni l'edizione pescarese del centro sempre lo stesso il titolo d'apertura e poi di spalla pescara ladri a caccia di computer svaliggiata un'altra scuola sempre a pescara strade groviera sei mesi per sistemarle poi ipodismo in lutto morto a 77 anni di Giampaolo e ora la prima pagina del messaggero Abruzzo con la politica in primo piano l'effetto Renzi blinda il PD l'ex premier al 63,5 per cento emiliano arriva al 12,9 si piazza secondo a pescara d'Alfonso più forte riallineato d'Alessandro anche la pezzo pane plaude al risultato sotto la testata a San Salvo scomparsa la madre di una bambina di sei anni criminalità smantellata la gang degli alvanesi in Val Pescara all'Aquila pressioni per i subalpalti prosciolto il sindaco Cialente cade all'accusa di induzione in debita il caso provocò una bufera politica e lui dice ne esco pulito ma ho dovuto bere l'amaro calice del sospetto di spalla il parroco di campagna diventa cavaliere don Renato D'Amico insegnito da Mattarella scrittore regista e musicista la fotonotizia al centro pescara scommessa Empoli la fiammella della salvezza con una foto dell'attaccante bianca azzurro Alberto Cerri poi ancora in taglio medio la polstrada blocca la gita via ai controlli su tutti i bus autista con il certificato scaduto ora verifiche alle partenze poi ancora il camionista guidava sotto anfetamina in basso la scoperta cinema abusivo negli alberghi la prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo ruzzo azioni legali contro le iene la società rassicura sulla bontà dell'acqua dei rubinetti e valuta una citazione per danni anche per l'INFN sotto la testata l'analisi del voto verso le primarie Renzi stravince anche se è crollata l'affluenza Martinsicuro ubriaco finisce con la macchina nel torrente vibrata e a Giulianova segatore sterco dopo la festa animalista la foto al centro la tana dell'orso all'ipogeo la mostra del vvf per salvarli dall'estinzione e poi di spalla intervista al sindaco di rosetto sabatino di girolamo fare politica per me non significa fare carriera poi ricostruzione il sindaco di teramo brucchi torna a roma per il decreto sisma poi leggiamo in basso il sindaco perde il presidente del consiglio tutto questo accade ad alba adriatica bizzarri lascia la maggioranza del sindaco tonia piccioni editoria lisciani lancia i leoni d'oro la collana di classici per ragazzi curata da livio sossi e poi la tragedia isola in lutto ai funerali di peppino molto annegato nella cisterna possiamo dunque lasciare per ora i quotidiani locali ora la rassegna delle prime pagine delle testate nazionali partiamo dalla stampa come detto è l'attentato di in avvenuti in russia ieri a dominare la scena come insomma il titolo di apertura di diverse testate incubo jihad a san pietroburgo kamikaze nella metropolitana 14 morti e 47 feriti in esploso un altro ordigno identificato l'attentatore un 22enne kazako il presidente russo in città non cambio i miei programmi e poi l'editoriale la sfida del terrore a putin e poi ancora la carica degli estremisti ex sovietici l'intervento in siria mette il paese nel mirino dei fondamentalisti a musul ci sono molti foreign fighter russi avanti con la prima pagina del fatto quotidiano bomba nella metro il terrore islamico da una mano a putin 11 morti e 47 feriti un ordigno inesploso la pista è caucasica e poi ancora la chiamano concorrenza bollette più care opere d'arte vendute all'asta e regalino a berlusconi voto di fiducia sulla legge con i favori alle lobby e poi sempre in taglio medio il partito di renzi matteo fa il bullo tra brogli e litigi ma ora fanno paura i non iscritti del pd voglia di plagio non solo madia scrittori giornalisti filosofi col vecchio vizio di scopiazzare e poi ancora la prima pagina del corriere della sera terrore in russia strage nel metro bomba esplode a san pietroburgo almeno 11 morti putin nella pista del kamikaze islamico paura nel giorno della visita del presidente i racconti un boato poi il buio e le urla caccia ai complici e poi ancora sanità addio ai ticket si pagherà per reddito voto nel pd renzi e il caso primario chi perde lo ammetta emiliano apre ai 5 stelle e ora la prima pagina di repubblica bomba islamista contro putin sangue a san pietroburgo atto terroristico i sospetti sull'azione di un kamikaze ventenne poi roma senza anima alla luce del led avanti ancora con il giornale qui si cambia un po argomento come titolo d'apertura il killer di budrio libero di uccidere l'uomo in fuga un ex militare russo con precedenti per rapine e violenze le forze dell'ordine dicevano assecondatore poi attacco a putin 14 vittime lo zar ha cerchiato dalla pizza dalla piazza e dal terrore il manifesto l'ultimo metro renzi vince orlando cerca gli ex la verità il governo crea crea la tassa sulle tasse quest'anno dovremo pagare 3,6 miliardi di euro in più a caffè commercialisti che compilano le dichiarazioni ratzinger spiega il senso della vita e poi servivano le bombe per avvicinarci a putin attacco a putin strage nel metro kamikaze si fa esplodere a san pietroburgo mentre il presidente è in città la pista islamista e poi per il calcio siamo sul mattino e quindi si parla di napoli sarri de laurentis la pace per vincere il messaggero terrore nella metro sfida a putin san pietroburgo bomba uccide 14 persone 40 feriti il presidente era in città pista islamica ha trovato un altro ordigno la polizia è stato un kamikaze l'identikit di un 22enne kazako poi legittima difesa ora si accederà scatta se qualcuno entra in casa la prima pagina dell'avvenire questi due fronti di guerra congo la guerra rimossa russia la guerra riaccesa e poi lavoro a pasqua e disumanizzante vediamo la prima pagina del secolo decimo nono russia inferno nella metro questo il titolo di apertura del quotidiano di genova la gazzetta del mezzogiorno pd le eliti non finiscono mai renzi vince ma è scontro sui numeri orlando linea sbagliata candidato alla segreteria dem nuova accusa per emiliano e così lasciamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e torniamo ai quotidiani locali andando a sfogliare le pagine del centro andando a vedere insomma quali sono gli argomenti principali trattati dai quotidiani dai quotidiani locali ecco qui dunque sul centro pagina 4 e 5 giallo ai caraibi lividi sul corpo del pensionato trovato in peccato alla maniglia i parenti non credono al suicidio di fernando ranni l'autopsia resta coperta dal segreto l'ultima telefonata alla sorella per annunciarle il ritorno a casa era felice di rientrare a chieti e poi ancora la storia del docente teatino la matematica al liceo e il sogno di santo domingo fino alla tragica morte e poi alcune testimonianze in basso qui leggiamo la vita vale pochi dollari ti uccidono per nulla il racconto shock di un imprenditore è tornato in abruzzo dopo aver investito una fortuna nel paradiso di bocca cica con mille euro si vive bene se non si sta in zone turistiche ci si può permettere il sabato sera o la domenica di andare a mangiare fuori o andare al casino la repubblica dominicana è pericolosa un po' ovunque anche finendo in una zona di campagna puoi fare gola a qualcuno perché hai la macchina e poi ancora pensionati all'estero prezzi bassi tanto caldo e forse un altro amore così rinascono gli over 60 dal portogallo a cipro a cuba il professore di chieti era uno dei tanti che hanno deciso di lasciare l'abruzzo permette dove l'assegno imps vale ancora qualcosa e poi c'è una testimonianza particolare di un collega come Ludovico Raimondi e qui leggiamo da Giulianova a Tenerife addio all'Italia impazzita Ludovico Raimondi giornalista impiegato comunale in pensione racconta ho lasciato la città che amo per ritrovare una dimensione di vita più umana lascio un paese senza lavoro e senza futuro con i giovani persino sbeffeggiati ho trovato un posto dove nevrosi e stress lasciano il campo a ritmi cadenzati e serenità dunque anche questa testimonianza appunto del collega Raimondi avanti ancora pagina dell'Abruzzo la politica verso le primarie PD Renzi sbanca con il 63 per cento Orlando prende l'Aquila Francavilla con Emiliano vittoria dell'ex premier nel voto dei circoli abruzzesi alle urne quasi 6.000 iscritti Rapino voglia di partecipare e poi in basso Abruzzo Open Day dal 27 maggio l'annuncio alla Beat Lolli un evento anche sui cantieri dell'Aquila poi avanti ancora siamo alle pagine della cronaca di Pescara incubo ladri furti su commissione e il turno delle scuole sottratti i PC di via Gioberti due settimane fa colpo identico all'istituto Piano T ma la razzia è ogni notte bici macchine provviste ecco dove finisce la merce poi il poliziotto sindacalista il nostro lavoro vanificato dai tempi della giustizia con l'Antuono segretario provinciale Siul per risultati resi inutili a rimetterci sono i cittadini onesti e chi si impegna tutti i giorni poi ancora sempre per la cronaca operazione dei carabinieri presa la gang che investiva nella droga 8 arresti tra popoli Silvi e Pratola centro operativo dell'organizzazione sequestrata anche una pistola poi in basso leggiamo decisivo l'arresto di un popolese l'inchiesta è nata nel 2015 i clienti imprenditori commercianti e disoccupati allora andiamo a vedere il servizio relativo a questa operazione dei carabinieri traffico di droga nelle province di Pescara, L'Aquila e Teramo ad infliggere un duro colpo ad una organizzazione composta da albanesi sono stati i carabinieri della compagnia di popoli che hanno dato esecuzione a 12 misure cautelari eseguite all'alba di oggi sequestrato 1,3 kg di stupefacente e 9.000 euro in contanti un'organizzazione molto complessa che siamo riusciti a disarticolare dopo un anno e mezzo di lavoro portato avanti sotto la direzione distrittuale antimafia dell'Aquila è un'organizzazione molto fluida sul territorio organizzata e articolata su tre province quindi la provincia di Pescara, la provincia dell'Aquila e in parte questa mattina abbiamo visto anche sulla provincia di Teramo un'organizzazione diciamo su forma di quadrium virato orizzontale quindi composta da quattro soggetti al vertice che avevano la particolarità di non incontrarsi mai tra di loro quindi di veicolare le informazioni attraverso il cosiddetto passaparola un incontro a coppie che avveniva soprattutto nella tarda serata e in ambienti lontani dai centri abitati quindi dove c'era realmente l'impossibilità di controllarli ma anche di avvicinarsi per un successivo monitoraggio comunque grazie proprio all'attività di intercettazione sia telefonica che ambientale siamo riusciti a censire uno a uno i vari personaggi a stabilirne i ruoli all'interno dell'organizzazione le basi logistiche, i canali di rifornimento e cosa particolare un'organizzazione basata in parte anche su vincoli familiari proprio questi vincoli familiari che poi alla fine ci hanno permesso di comprendere le finalità del deraro provento di spaccio quindi sia per il riacquisto dello stupefacente ma anche per il mutuo soccorso tra i sodali Avanti ancora sei mesi per rifare 14 strade groviera l'amministrazione comunale annuncia il pacchetto di lavori in centro e in periferia la spesa è di 430 mila euro e poi sempre a Pescara, via del circuito resta chiusa fino alle 20 e 30 partito l'intervento che durerà 24 ore traffico deviato su asse attrezzato e Tiburtina per evitare file sequestrato il bus della gita per la Grecia documento non in regola, multati ditta e autista poi la polizia salva la vacanza di 250 studenti siamo ancora a Pescara ma questa volta la politica le liste civiche al sindaco subito un altro rimpasto si sblocca l'elezione di Pagnanelli alla presidenza del Consiglio Comunale Matteo D'Oro, liberali e socialisti lanciano l'ultimatum per un posto in giunta i circoli PD puntano su Renzi ed Emiliano Sorpassa Orlando segreteria di partito l'affluenza degli iscritti del 66,2% e poi ancora Dio di Giampaolo morto il pioniere del podismo moderno aveva 77 anni, organizzatore, dirigente sportivo e sindacalista il presidente Wisp l'aveva insegnito della presidenza onoraria e poi ancora leggiamo in basso Elena alle Olimpiadi d'Italiano 14enne del Galilei alla prova nazionale di giovedì a Torino progetto gustevole, accordo alberghiero allevatori via alla collaborazione per valorizzare le carni tipiche del territorio sempre a Pescara e poi ancora nell'area metropolitana siamo a Francavilla, risorse per circa 7 milioni con il nuovo piano sociale Francavilla, comune capofina nell'ambito foro Alento che aggrega altri 7 centri teatini via libera dell'assemblea civica aiuti anche per i disoccupati e poi in basso a Cepagatti si farà la rotatoria attesa da 4 anni sbloccati i lavori per la messa in sicurezza della provinciale 44 e ora andiamo a Montesilvano no ai profughi nel centro Trisi i dissidenti del gruppo Montesilvano 2019 attaccano la giunta Maragno-Cirone si fa solo confusione allora andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione la richiesta di consiglio comunale straordinaria e urgente già pronta a sottoscriverla sono stati i consiglieri della lista di centrodestra hashtag Montesilvano 2019 capitanata da Anthony Aliano il gruppo contesta la decisione della giunta Maragno di impiegare il centro sportivo Trisi situato in zona Vestina come centro di accoglienza per i migranti rifugiati stessa sorte stabilita anche per l'immobile ex-fea a ridosso di Corsumberto alla delibera del commissario dell'azienda speciale di Montesilvano e seguita quella della giunta spiegano i consiglieri comunali il tutto senza concertazione hashtag Montesilvano 2019 quindi richiama l'attenzione sul tema più generale dell'accoglienza che dicono ha già compromesso la vocazione turistica della città molti alberghi infatti hanno riconvertito le loro attività in funzione del ricovero dei migranti non solo il progetto Sprar costerà 70.000 euro alla cittadinanza montesilvanese costerà 70.000 euro ma quello in termini di cassa diretti in maniera indiretta costerà il degrado morale materiale della città un centro sportivo che non potrà più essere utilizzato dalla cittadinanza io ricordo che vi fanno uso bambini donne uomini anche nelle ore notturne il lungomare di Montesilvano è già completamente martoriato da questa esigenza malcelata di far business con il sistema dei migranti adesso ci si aggiunge l'ente amministrativo questo non è proprio consentibile noi ci opponiamo a tutti gli effetti costi quel che costi a supporto delle posizioni della lista civica comunale è intervenuto anche il capogruppo regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri cosa bisognerebbe fare? bisognerebbe applicare innanzitutto si tratta di politiche nazionali quindi bisognerebbe cambiare il governo dal mio punto di vista e applicare una diversa politica su questo fenomeno certamente e non è pensabile scaricare da parte dello Stato sui comuni oltre a tutti i problemi che hanno di bilancio di manutenzione sociale anche l'onere di una gestione di un fenomeno così incontrollato nel caso specifico della città di Montesilvano gli alberghi che in questo momento stanno ospitando secondo me in maniera non più legittima questi presunti profughi devono essere immediatamente svuotati torniamo sul centro sempre a Montesilvano in crisi anche la scuola di musica con l'abolizione dei voucher dopo aver azzerato il servizio dei nonni vigili il comune deve studiare un modo alternativo per pagare gli insegnanti senza partita IVA un'ipotesi e il ricorso alle agenzie interinarie poi in basso in taglio medio leggiamo acqua non potabile in 11 comuni eccesso di floruro nelle case di circa 5.000 utenti serviti dall'impianto della Nora e poi siamo nella zona vestina Loreto Prutino padre e figlia sotto la frana salvati dai vigili del fuoco un anziano automobilista la guida travolto da un fiume di fango e detriti sulla statale 81 appenne e di nuovo emergenza nelle contrade Mallo e Collalto a Chieti le ricerche a San Salvo appello per Carla sparita da tre giorni e la quarantena non dà notizie da sabato scorso carabinieri e vigili del fuoco con le unità cinofile battono a tappeto la città la giovane uscita di casa per una passeggiata potrebbe essersi allontanata volontariamente oppure potrebbe esserle accaduto qualcosa e sempre nel Chietino a Fossa Cese ricorderete l'episodio di alcuni mesi fa sparatoria migrante condannato aggredì i carabinieri intervenuti per fermarlo per lui la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione e a Lanciano muore a undici giorni dallo schianto donati gli organi dell'anziano in basso sempre la cronaca a Chieti scippata dall'auto in corsa preso il bandito paura vicino alla villa comunale nei guai un diciottenne altri tre amici sono ancora da identificare e poi all'Aquila due casi giudiziari discussi sblocco pagamenti sindaco prosciolto il GUP nessuna interferenza sulle procedure Cialente dice è una liberazione affitti gonfiati all'università assolti l'ex rettore di Orio e del vecchio in basso poi Donna Rumma il portiere del Milan a canistro dimentica pescara serata in casa dell'amico Vittorio Cocco dopo la papera col suo Milan assalto dei tifosi e foto ricordo e siamo ora alla pagina di Teramo acqua il caso Gran Sasso nessuna larve ma ora va reso più sicuro l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare il presidente del Ruzzo Forlini dice la contaminazione di agosto era sotto i limiti la regione oggi destinerà risorse per evitare il ripetersi di simili incidenti e poi qui vediamo un fotogramma del servizio delle Iene e poi in basso Roseto 200 famiglie assistite dalla Caritas molte sono italiane raccolti 260 pacchi di generi alimentari dall'associazione Carabinieri bene noi ci fermiamo concludiamo la prima parte di mattino 6 ma dobbiamo ancora sfogliare le pagine del messaggero Abruzzo e della città e per questo vi do appuntamento alla seconda parte ora le previsioni del tempo e poi un po' di pubblicità di nuovo buongiorno nella seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con le pagine del messaggero Abruzzo e con la politica PD Abruzzo Pro Renzi la sorpresa è Emiliano il 63,5% vota a favore dell'ex premier ma il magistrato raggiunge quota 12,9% si rafforza la posizione di D'Alfonso Pezzopane dice bene così basta risse Matteo va forte in provincia di Pescara dove Orlando finisce addirittura terzo e poi per l'economia Istat 6.000 posti di lavoro in più il presidente dell'industria di Agostino Ballone parla di buon segnale ma bisogna snellire i procedimenti vasto il porto che trae la ripresa riuscita l'operazione di far convivere i settori industria e agricoltura nella movimentazione sulle banchine siamo alla pagina di Pescara la polstrada blocca la gita scolastica scoperto un autista con certificato scaduto durante i controlli prima della partenza di 250 ragazzi del liceo scientifico Da Vinci mezzo e conducente erano stati forniti da una ditta casertana il via libera dopo l'arrivo di un altro autobus risultato in regola rischia di saltare il viaggio in Grecia dopo i recenti incidenti la linea dura prevista da un accordo tra ministero e polizia multe per complessivi 800 euro la dirigente Silvia Conti dice non risparmiate sulla sicurezza dei trasforti e poi in taglio medio camionista alla guida sotto anfetamina controlli serrati a Pescara Nord per l'uomo denuncia e patente sospesa nel mirino anche i pendolari sempre a Pescara prima campanella alla media a Pascoli finiti i lavori di adeguamento sismico in via Roma genitori soddisfatti per la fine della diaspora ed ora proseguiamo sempre restando a Pescara al via gli interventi sulle strade lavori per sei mesi il comune lancia il programma di manutenzione in città dopo i gravi danni del maltempo si parte con 13 cantieri il sindaco Alessandrini dice sarà l'attività pubblica più importante Blasioli all'esordio da vice sindaco progetti ereditati allora il servizio della nostra redazione sui lavori a Pescara vice sindaco Blasioli oggi si parla in conferenza stampa dei lavori che riguarderanno le strade di Pescara puntate molto sulla manutenzione stradale ad iniziare da via del circuito che questa sera starà chiusa per 24 ore per dei lavori urgenti si punteremo molto sulla manutenzione stradale di qui ai prossimi due anni sarà la principale opera pubblica della città il comune di Pescara è un comune in predissesso deve ragionare come una famiglia dove c'è un genitore che perde un posto di lavoro si fa prima la necessità e la necessità significa garantire strade belle ma soprattutto sicure cominciamo da via del circuito questa sera alle 20 e 30 quindi lavoreremo spesso e volentieri di notte chiuderà per una giornata ma è una via che dopo il mal tempo ha bisogno di manutenzione soprattutto perché la via di accesso di tanti genitori che portano i bimbi a scuola delle persone che accedono a Ovest nella nostra città ma soprattutto dai mezzi di primo soccorso da lì passeremo su altre strade quindi via Firenze via Nazario Sauro via Caboto via Marino da Caramanico via Gioberti via Parini via De Marsi via De Sabini e poi la Tiburtina sarà l'ultima grande opera un chilometro e sei di strada dalla rotonda quella famosa con l'aereo fino a via lago di Campotosto ci saranno inevitabilmente però dei disagi per gli automobilisti i disagi ci sono è normale che siano così però le opere vengono comunicate con largo anticipo la cartellonistica stradale permetterà di scegliere percorsi alternativi e lavoreremo di notte di più non potevamo fare sempre su Pescara Berardi dietro fronte in attesa del posto in giunta non si candiderà la presidenza del consiglio ora tocca al sindaco dare segnali ai sei malpancisti ora la cronaca sempre su Pescara o meglio nella provincia di Pescara le mani degli albanesi sulla Val Pescara ha sgominato un clan con base a Popoli che aveva monopolizzato lo spaccio di droga anche a Pratola in Marsica e nel Terramano 12 misure cautelari contro Capi e Gregari anche un minore coinvolto al vertice due famiglie comunicavano con il passaparola applicavano il codice d'onore per punire gli sgarri l'inchiesta partita dall'arresto di un pregiudicato sempre per la cronaca ladri d'auto in azione durante la partita la partita tra Pescara e Milan due fermi manette dopo il furto di una golf avevano centraline e attrezzi e ora le pagine aquilane del messaggero Abruzzo induzione in debita Cialente è prosciolto il GIP archivia anche la posizione di un funzionario comunale l'inchiesta è durata tre anni provocando polemiche politiche l'accusa di cosiddetta concussione depotenziata veniva contestata in relazione al subappalto da affidare al costruttore Eliseo Iannini il primo cittadino a me e alla mia famiglia hanno fatto un check up completo ma io non ho nulla da nascondere università all'ex optimus tutti assolti affitti gonfiati il collegio ha scagionato Diorio Del Vecchio e l'imprenditore Gallucci e poi per la politica Trifuoggi va via e si candida sono l'unica speranza l'ex magistrato ha formalizzato le dimissioni e ha fatto partire la sua campagna elettorale non ho mai fatto cose contrarie ai miei principi il movimento possibile lo appoggerà e allora spazio al servizio sulle dimissioni di Trifuoggi Do le dimissioni senza sbattere nessuna porta perché ritengo esaurito il mio mandato più di quello che ho fatto non potevo fare esordisce così Nicola Trifuoggi rimettendo il suo mandato da vice sindaco del comune dell'Aquila il mio è stato un mandato di servizio dice di servizio per la città fui chiamato dall'amministrazione in un momento delicato perché si sarebbe bloccata la ricostruzione e la relativa macchina comunale per questo accettai senza conoscere all'epoca neanche come fosse composta la giunta comunale né il consiglio né come fosse composta la maggioranza io non sono venuto a salvare Massimo Cialente né né la giunta da lui rappresentata io sono venuto perché Cialente all'epoca mi disse che se io non avessi accettato la carica di vice sindaco sarebbe lui si sarebbe dimesso sarebbe confermato le dimissioni sarebbe arrivato un commissario si sarebbe bloccata la ricostruzione io ho accettato perché mi sono sentito in quel momento sulle spalle la responsabilità della mancata o ritardata ricostruzione dell'Aquila chiunque fosse il sindaco da chiunque fosse rappresentata la giunta l'ex sindaco ribadisce poi che nel suo operato si sia distinto per non aver mai votato una delibera su cui non fosse d'accordo come nel caso in cui si è opposto alla transazione per il pagamento del risaccimento alla ditta costruttrice della metropolitana di superficie i documenti attestanti le spese sostenute dalla ditta non sono mai stati forniti di cetrifoggi si tranza sulla base di dati non di chiacchiere io ho detto che l'assessore deve saperne più del dirigente di quel settore perché due persone che parlano la stessa lingua riescono a risolvere dei problemi che invece quando è uno solo spesso rimangono irresolubili a volte certe decisioni sono state prese per opportunità per opportunità politica e l'opportunità politica è sempre relativa c'è sempre un visto da sinistra io ho un visto da destra forse a volte qualche decisione più coraggiosa avrebbe potuto aiutare ma io non voglio parlare del passato assolutamente né voglio parlare dei singoli io voglio parlare del futuro e se parlo di errori è solo per far capire che li abbiamo individuati e che vogliamo provare a correggerli sempre all'aquila sulla politica bergamotto verso la presentazione biondi tira dritto davanti a domenici e poi ancora scatta la protesta economia occupato l'atrio chiesta l'apertura della palazzina B che ospita la mensa e poi sempre in provincia dell'aquila siamo nella zona della remogna hotel come cinema abusivi due denunce la guardia di finanza in alberghi di Roccaraso e Ovindoli che proiettavano per i loro clienti opere contenute in dvd per le fiamme gialle si tratterebbe di un indebito vantaggio utilizzando pubblicamente film venduti per solo uso privato avanti ancora siamo in provincia di Chieti o meglio nelle pagine di Chieti la fabbrica fa scuola la Walter Tosto forma i nuovi operai dopo ingegneri e tecnici al via il primo corso per specialisti della caldareria futuro lavorativo assicurato per i 20 allievi 5 milioni investiti in formazione offriamo opportunità anche noi dice Luca Tosto managing director della Walter Tosto appunto e poi ancora il super ospedale è nostro basta complotti la risposta del sindaco di Chieti Umberto di Primio e poi in basso il professore morto a Santo Domingo l'autopsia chiarerà il mistero e poi ancora Bancarotta San Marco pagano i vertici e qui siamo a Lanciano due anni e quattro mesi all'ex presidente del CIDA Nicola Sideri e al suo vice Sergio De Angelis per il crack da 5 milioni 20 mesi e 20 giorni al terzo consigliere Florindo Grassi contestata la distrazione di fondi in diverse situazioni la difesa ha ottenuto la sospensione della pena e ribadito la regolarità delle azioni compiute dagli amministratori in basso Ecolan regolarizzata la posizione in house i sindaci bipartisan confermano CDA e Ranieri presidente ma Di Stefano chiede chiarezza sugli affidamenti poi ancora a Teramo l'acqua del ruzzo sicura è tra le migliori d'Italia il presidente Forlini l'ho sempre bevuto anche dopo lo sversamento di clorometano il vulnus va inquadrato nelle tre attività che si svolgono all'interno del Gran Sasso e poi in basso le parole del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi oggi al Senato vogliamo la zona franca sindaco a Roma assieme ai colleghi Marchigioni e Umbri per gli emendamenti al decreto per la cronaca operazione Pusher 2 giro di vite sulla droga e poi sulla costa consiglio su bilancio e sosta a pagamento il PD blinda il sindaco a Giulianova alla vigilia il cittadino governante torna sulla costruzione dell'imprenditore Peppino Marozzi chiamata Arboraus nella conferenza stampa ci sono stati toni anche offensivi il costruttore sapeva che cosa faceva e poi tensioni al comune di Albadriati Capiccioni e Bizzarri far lisce il tentativo di riportare la pace dopo lo strappo tre consiglieri della maggioranza dalla maggioranza all'opposizione e le parole del sindaco Piccioni avanti da soli fino alla fine del mandato ma i numeri sono risicati lasciamo il messaggero e approdiamo alla città il quotidiano della provincia di Teramo subito a pagina tre la replica alle Iene bisogna aumentare la sicurezza ai laboratori il ruzzo ribadisce sull'incidente del diclorometano i cittadini teramani non hanno mai corso pericolo oggi oggi la giunta regionale emanerà una delibera per stabilire un piano di messa in sicurezza del laboratorio e trovare le risorse il servizio realizzato dalla nostra redazione l'acqua distribuita dal ruzzo ai teramani è tra le più buone d'Europa controllata ed analizzata in ogni momento dalla ruzzo reti e dall'arta è sempre risultata essere potabile anche in seguito all'ultimo incidente di bassissima contaminazione con il diclorometano verificatosi al punto di captazione nei pressi del pozzetto dei laboratori del Gran Sasso il fatto poi che l'evento non sia stato comunicato ai cittadini non contraviene la legge che prevede che l'utenza venga informata solo in caso di minaccia imminente per la salute umana sono questi i punti principali che il presidente della ruzzo Antonio Forlini ha voluto approfondire per eliminare dubbi e paure dopo il servizio televisivo delle Iene intanto la bontà della nostra acqua eccellente io bevo acqua quotidianamente dai rubinetti vi assicuro che la nostra acqua è tra le migliori d'Italia perché non avete informato anche di questo piccolo sversamento i cittadini intanto perché a nostro modo di vedere non esiste un obbligo di legge in tal senso in verità questa cosa noi non ci abbiamo neanche pensato proprio perché per noi è normale che se capita qualsiasi problema una sorgente noi siamo ovviamente obbligati a mettere fuori uso quella sorgente a fare tutti gli accorgimenti che possano poi ripristinarla in fretta e a integrarla in altra maniera non è che avvisiamo la popolazione di qualsiasi problema che abbiamo nella gestione dell'acquedotto però questo piccolo incidente c'è stato non pensate di chiedere una maggiore messa in sicurezza ai laboratori questo certamente sì anzi è stata la prima cosa che abbiamo sottolineato ed è la cosa che noi ci aspettiamo la regione faccia perché poi noi siamo il soggetto gestore ma in realtà le captazioni sono di proprietà pubblica di proprietà regionale è la regione che deve e può e ha il potere per obbligare sia il gestore autostradale che è il laboratorio a fare a completare le opere che forse all'epoca non sono state completate dalla messa in sicurezza e a migliorarle perché seppur piccolo e banale questo incidente c'è stato e quindi bisogna fare in modo che non si ripeta in sintesi l'obiettivo che si pone la Ruzzo Reti sarà quello di rendere sempre più compatibili tra di loro tre elementi che non potranno mai essere soppressi il traffico autostradale della 24 gli esperimenti dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la captazione dell'acqua dal Gran Sasso per quanto poi riguarda l'intervista realizzata dalle Iene Forlini annuncia che ha dato mandato all'ufficio legale per citare in giudizio gli autori del servizio televisivo per danno di immagine e procurato allarme insomma la nostra acqua è buona e la possiamo bere certamente sì sempre sulla città sisma Brucchi torna a Roma per il voto al Senato meglio un emendamento correttivo che un altro decreto per zona franca anticipi di cassa e sgravi Tari le richieste problema sulla Tari patto di stabilità anticipazione di cassa zona economica speciale e donazioni l'ipogeo a Teramo dunque diventa la tana dell'amico Orso fino a venerdì ospitata la mostra del WWF dedicata al plantigrado marsicano e alla sua conservazione e poi nelle notizie della provincia di Teramo oggi funerali dell'operaio morto nella cisterna Peppino Scardelletti è affogato mentre cercava di recuperare un attrezzo dal fondo del serbatoio ex moratore da poco in pensione era molto conosciuto in paese e aveva perso casa dopo il terremoto del 30 ottobre questo pomeriggio alle 14 l'ultimo saluto al santuario di San Gabriele segreteria PD Renzi vince anche nel Teramano qui siamo dunque alla politica l'ex premier fa incetta di voti soprattutto sulla costa a Roseto raggiunge addirittura l'84% dei consensi anche in provincia si conferma il vincitore della prima fase congressuale con il 60,5% dei voti buoni risultati per Orlando a Bellante e Mosciano espluada alba dove il segretario Viviani raccoglie i 5 delegati Michele Migliano espluade il governatore pugliese a Montorio dove ha ottenuto 62 preferenze sui 78 voti validi la cronaca ubriaco finisce con l'auto nel vibrata tortoretano senza patente trovato con i valori 5 volti superiori alla norma e poi ancora la festa degli animali segatura e sterco sul piazzale dello splendore polemiche dei frati e dei fedeli dopo la manifestazione organizzata da Giussi Branella di fronte al luogo sacro e andiamo avanti fare politica per me non è fare carriera l'intervista al primo cittadino di Roseto Sabatino di Gironomo che fa un primo bilancio con Ginobre il rispetto è reciproco poi per la cronaca ruba un'auto durante Pescara Milan neguai un 29enne di Atri fermato dai carabinieri con un foggiano andiamo a vedere le pagine dello sport Teramo il vento è cambiato davvero due vittorie un pareggio nelle ultime tre gare una rincorsa esaltante domani Lancona intanto Gianluca Lapadula fa visita ai vecchi compagni ecco la foto scattata ieri nel tunnel del Bonoris con Lapadula al centro e con i reduci della stagione della serie B vari Scipioni Di Paolo Antonio Petrella Speranza Caidi e Amadio foto postata da Alessandro Di Paolo Antonio sul suo profilo Facebook che ha subito insomma attirato l'attenzione di tanti sportivi appunto la visita dell'ex centravanti che domenica scorsa con la magna del Milan è tornato in Abruzzo a Pescara per la serie D Poker San Nicolò ma il secondo posto resta a meno due Biancazzurri a Valanga contro la Jesina ma il successo in extremis del Materica lascia inalterata la situazione in classifica sempre in serie D Pineto sul Velluto contro la Bevi Civitanovese Salvezza a un passo per il basket Roseto Svagata Jesi ringrazia e ne approfitta gli squali protagonisti di una prestazione sottotono nelle fila marchigiane Davis e Benevelli segnano 50 punti in due rapidamente andiamo a vedere anche lo sport sul centro e il messaggero la due pagine del centro dedicata al giocatore che sta esplodendo in questi ultimi giorni in Biancazzurro e infatti viene definito l'oro nero dei Biancazzurri Coulibaly in vetrina il Pescara lo blinda le big spingono ma il baby senegalese vuole il Delfino Juventus Inter e Milan hanno già chiesto informazioni dal club di Sebastiani il centrocampista guarda avanti ora sogno la maglia del Senegal il dirigente dei giovanili Di Battista gioca con la stessa tranquillità di Verratti la gente di Campri nessun dubbio nella prossima stagione giocherà qui eccolo qui a cena con il suo procuratore Mamadou Coulibaly con Donato di Campri con l'assistente di Donato di Campri Marino Camaioni avanti ancora con sempre la due pagine sul Pescara Zeman può andare a meno sei sabato gara della vita ad Empoli un successo può riaprire i giochi c'è anche il baffo del Delfino di Antonio De Leonardis finalmente una domenica da applausi per la Lega Pro c'è l'Ancona la Padula carica il Teramo l'ex bomber bianco-rosso ora il Milan ha fatto visita alla squadra durante l'allenamento altri 3.000 euro di multa per il club e poi ancora serie D nervi tesi in casa bianco-verde rivoluzione Avezzano esonerato il DS De Angelis dopo il capo interno con l'Aquila il patron marsicano Paris Silura il direttore sportivo non sono soddisfatto del suo lavoro l'allenatore Tortora non sarà confermato e per il campiato di eccellenza è bagarre tra Nero Stellati e Martinsicuro testa a testa per il salto in D in 7 si giocano la salvezza e poi ancora per il basket riscatto Roseto Chieti va sul mercato gli Sharks pronti a rilancio per agganciare i play-off dopo la sconfitta di Iesi la Proger a caccia di un nuovo play ed ora andiamo a chiudere con il messaggero Abruzzo ecco il titolo sul Pescara Pescara tutto a Empoli sabato al Castellani bisogna vincere la B è sempre dietro l'angolo ultima chance per riaprire il campionato il new look dato da Zeeman ha dato i frutti contro il Milan ora sono i toscani in crisi profonda poi questa polemica particolare ne abbiamo parlato anche ieri sera nel corso di replay Auriemma guardi le partite prima di giudicare un tweet di Auriemma citando il Pescara ha scatenato la risposta proprio del Pescara ecco qui la querelle Auriemma ha scritto segnare subito un gol e poi provare a difendere come farebbe il Pescara viva Sarri onore al Napoli che vuol vincere giocando e questo era il commento di Auriemma dopo Napoli-Juventus e paragonava l'atteggiamento della Juventus al Pescara il Pescara ha menzionato su Twitter ha risposto magari prima le guardie le partite prima di dare i giudizi poi c'è stata un'ulteriore risposta di Auriemma e intanto qui vedete anche una foto di Sebastiani con Marinelli con Leonardo Mancuso il ragazzo a sinistra il giocatore che sostanzialmente prelevato dalla San Benete se l'anno prossimo giocherà nel Pescara di Zeman in basso Repetto racconta ecco come ho scoperto Milicevic al Mondiale con la Croazia aveva 20 anni poi il Calvario dopo l'intervento al ginocchio Milicevic che ha debuttato in A proprio contro il Milan avanti ancora Teramo match point salvezza domani ad Ancona i biancorossi tentano di tirarsi fuori dai guai i saluti di Lapadula in campo alle 20.30 Ugolotti medita un po' di turnover tra i 12 out mister De Patre e il mediano Agei e poi Pineto Salvo vuole confermare a Maulo il mister ancora presto vediamo i programmi della società ma mi piacerebbe e poi la situazione di tensione ad Avezzano caro Presidente io le dimissioni non le darò mai mister Tortora Muso Duro siamo già salvi probabilmente il patrone ha voluto anticipare il divorzio che era previsto a fine stagione e poi nell'ultima pagina dello sport per il calcio Martinsicuro è sfida contro i Nero Stellati braccio di ferro per la promozione in Serie D a due giornate dalla fine l'Alba Adriatica ormai è troppo lontana a 5 punti per il basket Cimorosi Roseto mi sarei aspettato di più tutto questo dopo la sconfitta di Iesi di domenica scorsa invece va peggio alla Proger Chieti la Proger scivola in basso ma potrebbe rinforzarsi il DS Brandi Marte non lo esclude in caso di play out noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti dei nostri notiziari alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 poi l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con ProTerramo una trasmissione dedicata alla Lega Pro e al Terramo condotto da Jacopo Forcella una trasmissione che sarà particolare perché sarà una trasmissione di vigilia del turno infrasettimanale di campionato domani il Terramo giocherà ad Ancona grazie a Gianni D'Areo in regia e a Silvia Gentile grazie a voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata buona giornata grazie a tutti grazie a tutti